Per rabbia vi leggo un estratto massimo due dell'ultimo romanzo che ho scritto che si chiama Il demone a Beslan Noi avevamo le labbra secche che si spaccavano e mi faceva male la lingua se provavo a muoverla dentro la bocca La mamma mi diceva di sforzarmi a radunare la saliva e inghiottirla Perché così ti sembra di bere, petia, e di provare un po' di sollievo Ma io non avevo saliva da radunare e mi bruciava la gola se provavo a farla salire su La mamma ha cominciato anche ad avere paura che mi addormentassi E mi faceva i pizzicotti e mi diceva di stare sveglio e io non capivo il perché Io però ero stanco e mi sentivo svenire Ogni tanto mi appoggiavo alla sua spalla e chiudevo gli occhi La mamma allora si spostava e mi teneva la testa tra le mani Resta sveglio amore, diceva Resta sveglio Anche da rima è sveglia, la vedi? Prima ti voleva salutare ma tu avevi gli occhi chiusi Mamma, dicevo io, ho anche fame Anche se per mangiare devo prima bere perché la fame ce l'ho e la sento E lo stomaco si lamenta e mi brucia la gola e mi viene da piangere Sta buono amore Vedrai che tra poco finisce, finisce, vedrai Sono stanchi anche loro, lo vedi Non ci possono tenere qui ancora per molto Ma io non ce la faccio più mamma Mi sembra di non farcela più, perché non hanno fatto uscire anche noi quando hanno liberato quegli altri? Perché non passano più con i secchi dell'acqua? Tu, al prete, hai detto un sacco di bugie E anche lui ne ha dette Tu sei un assassino Tu ci hai uccisi tutti Poi si è sentito del movimento qualche fila più indietro a pochi metri da noi Io mi sono girato perché ho avuto paura ma non ho visto nessuno di voi Si vedeva la signora con la camicia bagnata sul davanti e alcune persone che le si erano avvicinate Le sentivo parlare C'erano delle mamme e dei bambini E c'era anche Ilarion Che mi sembrava ancora più magro e non gli si vedevano le labbra e aveva lo sguardo secco Non capivo quello che dicevano perché parlavano sottovoce tutte insieme Ma la signora con la camicia bagnata era pallida e aveva la faccia tesa Poi una delle vostre donne, quella magrissima, si è avvicinata E all'improvviso tutte le madri sono rimaste in silenzio La donna magrissima teneva il Kalashnikov rivolto verso il basso e si era tolta il passamontagna Anche le guance erano magre, pallide E quando ha parlato lo ha fatto con una vocina sottile sottile Che cosa succede? ha chiesto Dovete fare silenzio Il suo tono però non era cattivo, era stanco Una madre ha alzato la mano e indicando la signora con la camicia bagnata ha detto Sta perdendo di nuovo il latte, bisogna fare qualcosa La donna magrissima si è guardata attorno come se cercasse qualcuno Ma in quel momento eravate in pochi nella palestra E non c'era il vostro capo e nemmeno quello con lo squarcio e nemmeno tu A me è sembrato che la donna magrissima stesse pensando a una cosa Non ho avuto paura La donna magrissima ha guardato verso il fondo della palestra dove c'è il quadro svedese E il suo sguardo ha incontrato la strega cieca Anche la cieca sembrava guardarla Sono rimaste ferme per un istante come se si parlassero con gli occhi Poi la donna magrissima si è voltata di scatto verso la donna con la camicia bagnata E le ha detto Dallo a loro Loro eravamo noi Non ne ho per tutti Ha risposto la donna con la camicia bagnata E mentre lo diceva si slacciava i bottoni e si calava la camicia lungo le spalle Una madre l'ha aiutata a liberarsi del reggiseno E la donna è rimasta mezza nuda nella palestra Con intorno le madri e alcuni bambini Due donne hanno usato la sua camicia umida per coprirla alla vista degli uomini Dallo a quelli che ti stanno intorno Ha detto la donna magrissima La donna ha guardato la terrorista ma alla fine non ha chiesto niente La donna magrissima ha continuato a parlare come se avesse capito la domanda che non l'era stata fatta Ma invece di parlare solo con la donna della camicia ha parlato a tutti noi Ci sono qui io ha detto sbrigatevi La prima che si è attaccata al seno era una bambina della sezione B che io conoscevo solo di vista Mentre si faceva succhiare il latte La donna la carezzava sulla fronte e la guardava La bambina teneva gli occhi chiusi E sul volto della donna c'era una smorfia strana come di dolore Dopo pochi secondi una madre ha staccato la testa della bambina dal seno Devono bere un po' anche gli altri ha detto La bambina aveva ancora sete e fame si vedeva ma si è spostata senza lamentarsi Il secondo è stato un bambino della stessa classe L'hanno fatto attaccare all'altra mammella e aveva talmente fame e sete che ha fatto male alla donna Che ha lanciato un urlo Il bambino si è spaventato e si è staccato ma la donna gli ha detto che poteva continuare Bastava che non usasse i denti e tirasse piano Poi è andato Ilarion Dovete bere poco bimbi miei diceva la donna E a piccoli sorsi Questi sono serbatoi fatti per i neonati non per i bambini grandi come voi E poi deve bastare per tutti anche se non sarà così Intanto sembrava più tranquilla Lei era rilassata e forse anche un po' felice Ci sono andati alcuni bambini e sono riuscito ad andarci anch'io Mi sono attaccato al suo rubinetto Anche se ormai la donna non aveva quasi più latte E sono riuscito a succhiarne un po' È caldo e non è buono Ma io allora il sapore non lo sentivo Ne ho bevuto pochissimo appena per bagnarmi le labbra Ma dopo un po' la gola non mi ha più bruciato Mi ha lasciato un'idea di casa Non sono stato l'ultimo Dopo di me si è attaccata Masha e ne ha bevuta una goccia Quando si è staccata La donna ci ha ringraziati e ha detto Tra qualche ora ce ne sarà di nuovo e potrò darvene ancora Tu non ne hai quasi bevuto perciò sarai la prima La donna le ha fatto una carezza e Masha le ha sorriso Poi la donna deve aver pensato che aveva dato a noi Quello che non poteva dare a suo figlio che era a casa E mentre le aiutavano a rivestirsi si è messa a singhiozzare Se c'è tempo vi leggo un altro pezzettino più breve Raccontato dal narratore che è l'unico terrorista della cellula delle 32 persone Che hanno sequestrato la scuola di Beslan che è rimasto vivo ed è in carcere a Mosca A cui io immagino di poter far raccontare la storia di quei tre giorni Questo pomeriggio di ritorno dal supplizio dell'aria e della pallina arancione Mentre mi rivestivo stando in piedi sul fondo della mia bara Ho visto con la coda dell'occhio la forma uncinata di una scolopendra Che si acquattava dietro al buco di metallo dove deposito la mia merda Mi sono allacciato la giacca della divisa e l'ho cercata E lei che mi ha morso Stavo per prenderla in mano Ma mi sono ricordato del segno che ho ancora sul petto Ho preso la matita dal tavolino Mi sono abbassato e gliel'ho appoggiata vicino sul pavimento Non è successo niente L'ho toccata con la punta per infastidirla Il corpo si è contratto di colpo, si era grinzito Con un movimento rapido si è issata sulle zampe cingolate Ha tentato di scappare ma io l'ho bloccata contro il bordo del cesso Si è tutta cartocciata contro la matita e l'ha afferrata come afferrano questi animali orrendi Con tutto il corpo L'ho sollevata Ho raggiunto il lavandino e ve l'ho lasciata cadere dentro scrollandola Avevo una paura folle che mi attaccasse Ho chiuso il buco con il tappo prima che potesse scivolarvi dentro Sono corso verso la branda Ho sollevato il cuscino e ho preso tre o quattro taracani Che sono dei piccoli scarafaggetti Li ho buttati dentro il lavandino dove gli aspettava la scolopendra Non è successo niente Gli scarafaggetti percorrevano la superficie d'acciaio come per orientarsi Indifferenti l'uno all'altro e alla presenza di quell'animale spaventoso La scolopendra rimaneva immobile Anche se ogni tanto faceva mulinare le zampe anteriori L'ho spinta con la matita verso la zona del lavandino dove stavano gli scarafaggi Uno di loro, con l'aria indifferente degli insetti, le è passato vicino La parte anteriore del corpo della scolopendra si è inalberata in modo orrendo Sollevandosi dalla superficie di metallo Poi la testa è piombata sul corpo piccolo del taracan E lo ha stretto tra le spire delle zampe Dopo pochi secondi la bestia ha rilasciato lo scarafaggio ormai morto Con il corpo completamente ripiegato su se stesso e prosciugato Gli altri tre non hanno fatto niente, hanno continuato a girare per il lavandino A questo punto la scolopendra si è accorta di loro e si è avvicinata a un altro scarafaggio Lui si è reso conto del pericolo e ha tentato di girarla attorno Ma ormai lei lo aveva puntato e lo ha raggiunto Si è ripetuta la stessa scena di prima Con il mostro che si è sollevato ed è piombato sopra il corpo in difeso della vittima Tutta la scena si è svolta nel più completo silenzio E io mi chiedo se gli insetti abbiano una voce e se uno dei due l'abbia usata Anche la seconda carcassa è stata abbandonata nel lavandino Lo scarafaggio ha mosso per qualche secondo lentissimamente una zampetta Con il culo della matita ho spappolato la parte posteriore del corpo della scolopendra Mi è sembrato di sentire un rumore croccante Mentre imprimevo in quel gesto di giustizia tutta la forza di cui sono capace Un liquido trasparente sgorgato dalle sue spire Mentre la testa si sollevava per la sorpresa e il dolore Se provano dolore Con il culo spappolato La scolopendra è rimasta per qualche secondo interdetta Si guardava attorno senza capire L'ho avvicinato un altro scarafaggio Si è buttata su di lui con una furia ancora maggiore L'ha dilagnato con le zampe e il veleno Non ha mangiato le sue prede, le ha solo uccise Pensavo sarebbe rimasta ferma, inchiodata al suo nonculo Invece si è trascinata verso l'ultimo scarafaggio Probabilmente ha creduto che fosse lui la causa del suo dolore Lo scarafaggio ha tentato di scappare Ma nonostante la mutilazione la scolopendra è stata più veloce L'ha bloccato per le terga e lì ho visto O mi è parso di vedere I suoi quattro occhietti accesi e due uncini che penetravano i fianchi dello scarafaggio La bestiola è rimasta immobile, morta sul colpo Con la matita ho bloccato la testa del mostro senza schiacciarla Mentre la tenevo ferma ho tolto il tappo del lavandino Poi l'ho rovesciata sulla schiena le sue zampe schifose che si muovevano nel vuoto E l'ho spinta verso il buco Ha lasciato una striscia di liquido trasparente fino alla sua tomba d'acqua Ho aperto il rubinetto per spingerla giù ed essere sicuro che non tornasse Grazie e buonanotte Grazie Grazie Grazie